Sei venuto tu qui, quindi comincia a parlare e dimmi cosa vuoi. 50.000 dollari. Vorresti 50 testoni? Perché li vorresti? 35.000 per quel mezzo chilo di roba e altri 15 per i danni che ha subito il mio socio. Il tuo socio? Ah sì, me lo ricordo a quel bambino. Tu sei il suo papà? Vediamo se ho capito. Ho preso la vostra roba. Ho fatto sputare l'anima a quel piccolo merdoso e ora ti presenti tu a portarmi altra Matt? Oh, è un piano geniale il tuo. Forse non hai capito bene una cosa. Questa non è Matt. Questa non è Matt. Questa non è Matt. Questa non è Matt. Grazie a tutti